Quanto siete deluse, amareggiate per questa situazione che va avanti veramente da troppo? Allora noi assistenti sociali da tanti anni che siamo amareggiati, ultimamente siamo più amareggiate perché da anni che noi lavoriamo e ci impegniamo, quindi non chiediamo altro che questo impegno che abbiamo dato dal lontano 2006 ad oggi ci venga riconosciuto. Stanno vivendo una vera e propria odissea tra assistenti sociali di Galatina che da troppi anni attendono il passaggio da part-time a full-time ma continuano a non avere alcuna risposta. Eppure a inizio aprile due delle cinque assistenti sociali dell'Istituto Immacolata Aspa di Galatina, ente che impiega il proprio personale in via esclusiva nei servizi offerti dall'ambito, sono state assunte dal comune essendo vincitrici di un bando di mobilità. Pertanto, in considerazione dalle 50 ore a tempo indeterminato liberate da queste due assistenti, l'USB aveva chiesto che tali ore fossero subito assegnate alle tre assistenti sociali alle dipendenze dell'Istituto affinché potessero raggiungere l'agoniato full-time. Ma nulla, e la beffa è che ne sono state assunte altre a tempo determinato. E per giunta, il tanto atteso incontro con le parti per un tentativo di conciliazione che si sarebbe dovuto svolgere in prefettura il 5 ottobre è saltato poiché due ore prima l'ambito di Galatina ha inviato una missiva per comunicare l'impossibilità dell'ente di partecipare a causa di improrogabili impegni istituzionali. Una cosa inconcepibile evidenza il sindacato. L'ultimo episodio è stato veramente eclatante. Una mancanza assoluta di cortesia istituzionale nei confronti della prefettura ma cosa ancora più grave, un atteggiamento veramente di arroganza nei confronti di queste lavoratrici che lavorano lì per l'ambito territoriale e sociale di Galatina fin dal 2006, stabilizzata è vero nel 2019 ma sempre part-time, attenzione. Nel momento in cui con i fondi del PNRR sono arrivati i finanziamenti all'ambito nel momento in cui ci sono due delle cinque assistenti sociali del servizio sociale professionale che con un bando di mobilità sono diventati dipendenti del comune di Galatina non capiamo veramente il motivo per il quale ancora il presidente dell'ambito continuo a dire che sono disponibili sì ma devono prima trovare la fonte di finanziamento. Noi non ci crediamo. Noi comunque nonostante questo stiamo continuando a lavorare. Io personalmente a me piace fare questo lavoro e do il massimo. Chiediamo che il nostro impegno ci venga riconosciuto, soltanto questo.